Ci siete? Sì, vedo qualcuno. Qualcuno mi deve parlare. Per favore, parlatemi così so che almeno ci siete. Ma voi allora hanno tolto l'odio. Audio. Si non ho capito, mi ha detto che la racconta, mi ha detto che la racconta. Di sì, una. Qu'è un'altra? Ti senti l'altro? Non ho capito. Scusate. Scusate. Pronto? Buonasera. 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 Io ho chiuso, io ho chiesto, ho chiesto, ho chiesto. Io ho chiesto, ho chiesto, ho chiesto. Io ho chiesto, ho chiesto, ho chiesto. no i non understand today not the first time we they use zoom what's your name can we invite her don't worry if they ask you for password no 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 they have to go to zoom go to our facebook page and click from there right yes there's a link just click the link okay auntie you need to go to our facebook page you don't first see our facebook page no the link where they are from that link that you will take enter you understand just click yeah okay okay a dopo ciao okay guys ci siamo when i see what we do today so that nobody go back we need to do see our facebook che zoom se no la gente si arrabbia con me okay so facebook che faremo più o meno la stessa roba okay uh abbiamo ripreso i say like we will do more or less wait see we don't facebook for facebook we'll just try to like uh that all those videos what we don't do for um what do they call on for youtube we'll just try to use i'm like interact now kiss ella saying ah no ma io sono senza cuffie aspetta abbiamo una nuova pronto si c'è Lincoln si c'è un Lincoln su come si chiama c'è un link su Facebook è tramite il link che può entrerci ok? l'hai trovato? no no i dei post when I published the messages that some people sent from where? from the live video? yeah you just did yeah and see they say for the live video people even share the link so may you ah ok admin put the link so may you go through that link thank you if no we don't go we will do this one ok 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 no problem chi se la sente di conversare con me hello hello please don't be a mother I was I was in the live video before I want to I want to join the Zoom and now I have I said I have already everything but now I didn't get the Zoom to join you now I don't understand I don't know because I have to do everything ah bro Sabeq me can give my admin so that we'll feed the continue with people where we'll be there here me can give my admin me explain to now hello who can who wants to talk who wants me like me will flow nobody said they're talking for people you okay anybody when they follow me they talk you need to promote the audio if not especially when they follow me they talk you go come they do casino for that one you know you don't hear me I don't go to here I don't hear I don't know this okay chi ha detto che se la sente di parlare c'era una signora prima io ciao ciao come ti chiami mi chiamo hola hola che bel nome che che significa hola è hola si si cosa significa se ce la vuoi dire se no non importa non non vuoi dire allora lasciamo perdere antiola non ce lo vuole dire cosa significa hola antiola ti hai visto i video su youtube oh sì l'ho visto sui verbi regolari sì ok noi abbiamo parlato tipo del fare e andare fare giusto sì ok io voglio congiugare il verbo fare prova io faccio ok brava tu fai ok lui lei fa noi facciamo ok noi facciamo ok voi fate brava e loro fanno complimenti si brava ok cercare di fare qualche frase con questo verbo ok ok faccio prendi il tempo non ti preoccupare con calma ok faccio io io uso inglese tell me nancy without feel happy tranquilla tranquilla poi sento i bambini forse ti distrago ok ok faccio adesso adesso faccio cosa fai adesso faccio 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 pulire ah fai lavoro delle pulizie si pulizie pulizie si ok brava e if i want tox se nancy my name na convivial si you na ola right si con il verbo fare convivial an ola pizza ok io con no convivial e ola ok facciamo no no i won't make you like until you'll feel commons for where i think it's coming from somebody else please come on to come on the audio please guys mute yourself just mute it grazie hai capito allora loro fanno pizza no why the noise is so much the noise we can't even understand anything at all i think it's coming from somewhere else yes it's coming from somewhere else wait i'm trying to mute them that's what i want to tell you please because you can't do it by yourself they don't want to i don't want to i don't want to i don't want to No, no, no. Ok, si sta Ola. Potresti fare lo spelling del tuo nome, per favore? Ok, sì. O di Omar. Omar? Qual è Omar? Omar. Omar? Sì. Puoi provare con il nome della città, così è più facile per chi magari deve scrivere? Ok, O di... Otranto, sì, io so io. Otranto. O... Otranto. Otranto. O di Otranto. Otranto, ok. Sì. È di Livorno. Livorno? Livorno, sì. È di Ancona. Ok. Ancona, brava. Sì, non si ricordi, di Livorno. No, poi se non ti si è messa. Non ti rilassi. If non, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. So that it will make the conversation day, like, easier for who they call you and like, as to take your daters ok we don't finish with another person and we don't get enough time for facebook to do like gender what do I talk to be gender auntie Ola you remember what do you be gender for Italian language and what do you need to tell us if you remember if you feel like if not work call another person you may come to our course you feel like no 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 I don't know if you feel like I don't know if you feel like another person tell us to be gender another person will remember make and see all the community that one tell us what do you mean gender for Italian and what do we need that for what do we need gender for I'm not sorry ok gender and gender gender and gender what do we need that for we need that for like so they most times we need that to differentiate if they talk to man or if they talk to woman and we still need that to differentiate other things you know me say you need to be like a bad human being ok I can't tell you now say anything we finish with O generally for Italian language na distinct na masculine anything we finish with A na feminine oh let's say you know they always go like that but in in most cases na so you they go ok as if they say any other person na come in na ok yeah I'll come in I'll try ok you hear say I talk say anything we finish with O yeah na masculine anything we finish with A na feminine ok primarily in itiare what can be O for Italian O O oh 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 ok what can be A A in English no no ok in Italian yes A 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 oh A yeah sorry ok if I can say la sedia na masculine na feminine femmina femmina si è giusto if I can talk il rigorifero rigorifero maschio masculine ok maschile o femminile o femminile ok femminile ok giusto ok if I can ah I can talk se I know that if you feel it happen the things the nouns if you finish with E or A for Italian language like if you finish with E if it be it not always means say maybe it need to be one anything we finish with any noun we finish with E if it be masculine or if it be feminine make I make an example for instance now il carne what it be carne dog ok justo last card ok wait it's carne masculine or feminine for you it one masculine 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 for English masculine for italian ok 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 we don't ask you la carne feminine or masculine ok 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 pronounce dog and talk meat because carne said no it it was all other thing it's pete oh Ciao! Oh, Edith! Ciao! 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 Madonna, pensavo di parlare ancora con lei! No! Ok! Perfetto! Te, 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 sì, te ci sei! Ok! E poi abbiamo detto, for Italian language, exceptions, they always the day. We don't talk now, se di russe, if we finish with O, è maschile, if we finish with A, è femminile, però non va sempre così. No! Non succede sempre così. No! Tipo, come nel video precedente ho detto, ad esempio, se io dico la mano, la mano non è maschile, perché se vai a vedere mano finisce con la O, no? Sì! Però non è maschile, è femminile! Sì! La mano! La! Ok! Sì! Anche nell'altro, nell'altro caso, ho fatto l'esempio di, no, la mano è cosa, no? È femminile! Sì! Andiamo sui maschile, caso dell'eccezione, no? Se io dovessi dire il problema, è maschile o femminile? Maschile, il problema. È maschile, però se dovessimo andare con la regola, cioè, ad occhio te diresti, no, è femminile perché finisce in A, no? Sì! Ma io vedo che te l'italiano la sai, dai! Ok! Chi è che viene ora? Voglio parlare con un'altra persona, ti è distante! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, cara! Buona serata! Ciao! Io, Florence! Florence! Ok! Ah! Sistema, non vuoi entra? Just non vuoi non leti entra? Yes! I don't feel entra! Ah! Non vuoi entra! Grazie! Grazie a tutti. Allora, you hear what we talk, Sister B? We talk about like masculine and feminine for Italian language. Ah, auntie, as you hear our sister Edith just now. Yes. What thing do they call dog and what thing do they call meat for Italian language? Dog e carne. Okay, what do they call meat? Meat carne. Carne. Because the arrow, they tend to stress the arrow. If you come on the arrow, carne. If you come on the arrow, io contonto a nodrati in Italian. Okay. Carne. Bravo. You need to practice on like this. Si, è giusto. Deve fare questo lavoro. Guardami. Deve fare questo lavoro. La R. La R. La R. Carne. Fai, 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 fai. R. 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 Grazie. Allora, va bene. Allora, dopo questo live vai a vedere i nostri video, così capisci di cosa stiamo parlando, ok? Va bene. Allora, Florence. F di Firenze. Florence, F di Firenze, sì. L di Livorno. Livorno, brava. O di Otranto. Otranto, brava. Oh, come fai a sapere tutto se non hai visto ancora il video? Allora, appena vedi il video. No, qualche volta, sì, qualche volta, se andare, qualche volta mio marito anche frontello, e così prendi un po' per capisci. Ah, hai sentito tramite il tuo marito? Sì. Allora, è re di Roma. È re di Roma. E di Empoli. Florence, ok. E ne di Napoli. E ne di Napoli. Sì. Sì. Allora. Inghilis è colare sì. Buon italiano è colare sì. 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 Ah, colare lì non mi ricordi. Cosa mi ricordi? Sì. Cosa mi ricordi? Sì. 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 Grazie. Quindi, a proposito del genere, raise your hand up. Confidence. Ok, aspetta, ok. Finiamo con Auntie Florence, poi vediamo. Auntie Florence, since you never see our other videos. No, we'll just be basic now. We'll just be like normal conversation, like the one we'll do last week. Allora, partiamo. Io, ti dove si chiede? Tu, come ti chiami? Io? Florence. Mi chiamo Florence. Brava. E di dove sei? Di dove sei? Da la Nigeria. Perfetto. Sì, brava. E sei sposata? Sì. No, io non voglio che tu mi dia le risposte così. Sì. Io ti devo mettere in difficoltà. No, com'è il divertimento? Sì, io sono sposata. Ok, perfetto. Ah, hai figli? Sì. Io non voglio che tu mi risponda così. Ok, scusa, scusami. Sì, io ho un figlio. Uno? No? Ok. Eh, sì, adesso, sì. Ok, 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 perfetto. Sì, sì, l'hai detto bene. Sì. Grazie. Bravo, Auntie Florence. Grazie. E l'ultima cosa che ti posso chiedere? Dove abiti? Non ci devi dire tipo la via, eh? sulla città. Io, io abito a Verona. A Verona? Ah, ok. Ok. Vabbè, io non ci sono mai stata a Verona. O ci sono stata? No, non ci sono stata. Ok. Auntie Florence, grazie. Ora aspettiamo qualcun altro. E buona serata. A te, tanti grazie. Ora, scusate, mi avevo promesso a Confident. Confident, ci siamo? O posso invitare io direttamente? No. Io ho tolto il coso. Come faccio ora? Ok. 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 Ciao. Mi senti. Mi senti. Ok. 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 Ciao. Mi senti. Sì. 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 Ah, ecco. Ciao. Come stai? Bene, grazie. A me non mi chiedi come sto? Tu, come stai? Io sto bene. Sì. 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 No. Non c'è. Admini, ti raccoglio. Admini, ti raccoglio. Ti raccoglio. Ok. Antti, cosa ti dici? Ha detto che ha visto che io sto bene. Come fai a sapere che sto bene? Perché non vedi che stai bene. Da cosa si vede? Dalla faccia. Tutto quanto. Tutto quanto. Ok. Questa voce mi pare una voce che ho già sentito. Non lo so. Blessing, sei te? Perché non vedi la faccia? Non vedo la faccia. Sei te, Blessing? Sì. Ho detto, cacchio, questa voce la conosco. Sono io, scusami. Come stai? È giusto. Chi ha detto che c'è un'altra persona su Zoom? Della stessa stanza. Ero io. Io prima ce l'avevo su tablet. in college. Ah, Issa. Allora non ti ha più dati. Allora mi avevi ragione. Ok. Cosa ti vuoi dire? L'altra volta hai detto che volevi fare lo spelling del tuo nome, ma non ti abbiamo dato il tempo, giusto? Ah, sì. Allora parlo. Non so se mi ricordo ancora. No, 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 te lo ricordi. Dai, sei brava. Dicci. Il mio nome, mi chiamo Blessing. Piacere, Blessing. Tanto la conosco, gente. Ragazzi, io la conosco, la Blessing. Scusi, Cosviglia, posso parlare lentamente un po', per favore. Io devo parlare lentamente? Sì, 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 per favore. Ah, ok. Ok. Grazie. Ok. Ok, giusto. Grazie. I think you mute yourself. I mute myself? Yeah. But we are here. No. I can hear you. No, 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 no. I think she knows, like, I should speak. I shouldn't speak, like, velocemente. No, no, no. No, 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 no. That was what she meant, right? Lo parlo di piano a day. L'italiano said you should reduce... Si, si, I said you should speak a little bit later, a little bit, because your italiano is a little bit faster. Ok, sorry. Hai ragione. Ok. Blessing dici? Cosa ci vuoi dire? Il mio nome. Ok. A faccio lo spelling del tuo nome, si sta Blessing. Proviamo di fare. No, no, aspettate, io gli dico questa cosa. A Blessing dà fastidio che io la chiami si sta Blessing. Ma adesso non ho detto niente. Perché tanto so che mi brontoli dopo. Ok. Puoi mi brontolare, like I know she go pick or me. She go attack me later. Ok. Faccio lo spelling del nome. B come Bologna. Bologna, esatto. L come Latina. Latina, ok. E come Empoli. Empoli, giusto. S come Sardegna. Bardegna. Ok. I come Imola. Sì, l'ha già detto due sardegna. I come Imola, sì. N come Napoli. N come Napoli, giusto. G come Genova. I come Genova. Ok, perfetto. Blessing, ci dici. Come facciamo a riconoscere che un nome sia o femminile o maschile. Qual è la differenza? Se te la senti. Allora, la differenza è che... Allora, anche se mette, I speak e non lentamente. Allora, ho detto, quale è, quale è, quale è, which one? Be the difference for genere. Like, how will te know whether è una femminile o maschile. Come facciamo a differenziarli? How will te differentiate them? Come facciamo a differenziarli? Ok. Ok. La parola a te. Come vengono a conoscere che uno è maschile o femminile e con l'alfabeto se finisci con O è maschile. Ok. Finisci con E. Allora, scusa. A. Ok. È femminile. Brava. È come ogni caso. C'è qualche caso che una parola femminile finisce o finiscono? Qual è? Qual è giusto? Finisce con O o finisce. Finisce. Qual è giusto? Finisce. Una perché è una parola. Ok. Now, one word finisce. If you say parole, then it will be finiscono. Grazie. Poi non è una parola. C'è, parola miss words, right? Mm? Mm? But if the child tell me se if the letter ends with... Capito? No. If the word ends with the letter O, se la parola è finisce con la letter O. Ok. Giusto? È maschile. Ma non sempre. Ok. Qual è l'eccezione? Qual è l'eccezione? Qual è l'eccezione? Which one be the exception within size? Aspetta. Non ti preoccupare. Perché c'è alcune parole femminili che finisce con I. è tipo di... plurali. Non è più singola. Ma te stai parlando di... Ma te stai parlando di... No, 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 no. We never even do singola in Prima. Ok. All the one thing we do con an a singola come... We do. Black woman, carriose go. Another level. come l'exempio che ho fatto come l'exempio che ho fatto piano piano siamo ok qualcun altro ok grazie a te qualcun altro chi ci vuole provare si chiud面 la cosa si può cu qui o can confidently Anybody who wanna try again? Anybody who wanna try again? Somebody want to try again? Call Somebody call anybody I should call Anybody M%, StarKaro! SytarCar ру I can see the star Carroll She's just they serious scenes Star caro Gutierrez Nedi StarCaro the seriousness That means they don't have many things He's putting those sta scrivendo qualcosa chi sta scrivendo si sta caro ah sta scrivendo sta prendendo i appunti ho visto i said she just did serious prende i appunti don't worry i lighten on cosa scrivi what did i do unmute yourself sister caro you need to open your microphone ok come stai bene oh ma perché voi non mi chiedete come sto ragazzi cosa vi ho fatto niente ma si vede che stai bene si vede tutto sta ridendo no 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 chiedetevelo per favore io scrivo qualcosa lì libro ok ok libro o quaderno si si questo è il quaderno si quaderno ok se io dovessi dire il quaderno è maschile o femminile il quaderno maschile bravo si 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 complimenti è brava ok ok sister ti hai visto in osso videos su youtube si 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 seguis su youtube allora si che quattro video fa mi ti ho quattroonya si mi no ti ho si ti ho quattro il Se io ti dovessi chiedere, se ti dovessi chiedere lo spelling del tuo nome, come lo faresti? Ma io ho fatto prima Facebook. Non importa, lo rifarai di nuovo. Ho visto, anzi, ho visto un bambino lì, vero? Sì. È tuo figlio? Sì, figlia. Ah, una femmina, scusami. Ok, allora, siccome hai già fatto lo spelling del tuo nome, facci lo spelling del nome della tua figlia. Ah, il nome della mia figlia, Blessing. Ciao, Blessing. Sei come la tua ragazza. Ciao. Ciao, cara. Quanto sei bella? Quanti anni hai, Blessing? Quasi otto. Quasi otto? Ah, ti vedo meglio da qui. Ma quanto sei bella. Complimenti alla mamma, Lora. Grazie. Oh, qualcuno ha scritto un commento, no? Che mi fa ridere. Lei ha detto, perché io qui... no, anzi, è un lui, no? Lui ha detto, ma perché ci sono solo femmine qui ora? Ci sono solo donne? Non lo so. Ok. Ti sta caro. Perché i maschili non si interessano di imparare le lingue. Tanto per i soldi. Loro non fa bene. No, ma sai che non è proprio vera questa affermazione? Sai perché? Perché YouTube dice che più di cinquanta persone che mi seguono, cinquanta per cento di persone che mi seguono sono maschi. Vabbè, è sui cinquanta. A me mi sta dicendo cinquanta sette. Vabbè, siamo sui cinquanta, va bene. Che sono maschi. In realtà mi seguono più i maschi che le femmine. Così di fare le video mi seguono. Cosa dire? Ma siamo sui cinquanta. Ci sono i maschi che le femmine. 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 Si è stato il femmine. Vabbè, cosa dice? Perché i mesi preferi sento e sento. Ma sento, non? Cosa dire? Ok. Le donne, le donne, le donne, le donne le donne. I don't know, maybe it's true, I don't know Maybe they like to watch more Ok, makes sense We need to talk more Quindi, oh, ti danno delle caccherone No, 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 no No, no, no Non è tanto vero questa affermazione Ciao, ciao Oh, Donne, cosa dite? Noi chiacchieriamo di più? Sì, sì, sì Oh, ma è vero Io credo che qui in Europa i uomini parlano di più Forse in Nigeria Qui in Europa, cioè in Italia, io vedo che i uomini chiacchierano abbastanza Non mi interessa, sì, ma non mi interessa Ho due fratelli che è da 14 anni in Italia In Italia, però non parla bene ancora Neanche ciao, solo ciao, come va? Dice, non vuoi imparare l'italiano? No, 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 non vuoi imparare Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa le soldi Ecco Uomini, uomini, difendetevi Difendetevi È vero questa cosa, no? Che voi vi interessate solo dei soldi? Non vi interessa imparare la lingua, non vi interessa niente È solo dei soldi, è vero? Ma loro sanno che è vero Mi fai troppo ridere No, ok Si sta caro, non velo Uno cari attenzio, come voi, io devo già leggere È anche quello, il bello della lezione online, no? Chiacchieriamo, almeno chiacchieriamo in italiano No? Ok Si sta bless, a modessa si sta bless Mi fare lo spelling del nome della figlia Si Ok Blessing Ok Lo spelling Check that lo spelling Ah, ok, ok Blessing Ok Si, bi come Ok Bi come Banana Oh, ma non ridete Non, 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 non Non ridete Se ridete lei non ha La poteva No, non, non We are not laughing at you We are just having fun, ok Nobody is perfect yet We are just having fun Please don't get angry when we laugh Don't get angry, ok Si Bi come Bi come Bi come Bi come Banani Ecco Oh, ma ti sto suggerendo Ma ti No Non Non No 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 You have to spend it with città Con la 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 città Bi Bi Che nomi di città ti viene Brescia Bologna 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 Bolly No Bologna No Bologna No 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 C'è la L Prima No Scusami, una cosa che non c'entra niente, in che città stai, in che città di dove stai? A Verona. A Verona, mi piace il tuo accento. It's like you have a lot of fun in Verona. You have a lot of fun in Verona. All of us in Verona. L come cosa? L? Livorno. Livorno. Livorno è città? Sì. È qui in Toscana dove sto io. Non so. E? Sì, lo so io, non ti preoccupare, lo so io. Ci sto avvicino. E come? E come Empoli. Empoli. Brava. Poi c'è una S. S è come cosa? S. S. Siamo. Sardegna. 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 Anyone way you want. Ok. Poi? Mamma mia. Non ti preoccupare. Prendi tutto il tempo. Ok, no. Non è vero che abbiamo tutto il tempo. Abbiamo solo otto minuti. Stavo per dire abbiamo tutto il tempo. Oh, mamma mia. Ok. Non ti preoccupare. S come? No, ho finito. Ah, hai finito? Sì. No, non è finito, non è vero. I, C, N, G. Sì, io legge prima questo S. S è doppia, ce l'avevo. S è doppia S. Doppio S. Sì. Ok. Qualcuno che? Ok. Cosa c'è scritto qui? Pertigolare, dici? Ah, irregolare. Aspetta. Prima di fare quello, aspetta. Voglio chiedere l'ultima cosa a Blessing, la bambina lì. Blessing, sai che domani è festa della mamma? Sì. In Italia. Sì, in Italia. Cos'è che regali alla tua mamma? Cosa regali alla tua mamma? Un grande abbraccio. Eh sì. No, 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 avrà fatto qualcosa per la mamma, no? Hai fatto qualcosa per la mamma? Ho solo un abbraccio. Ho fatto un regalo. Ah sì? Bravissima, complimenti. Che brava la figlia di Caro. Allora. Sono pizze. Grazie. Grazie a te, Cara. Ah, ha fatto lo spelling. Ah, ok, Peter. Ok. Prima di andare, ragazzi, abbiamo detto... Ma noi abbiamo coniugato tutti i verbi regolari. Abbiamo detto fare, andare e venire. Allora, a me è detto una smosma bellina. Andare, venire e fare. Chi fare? We conjugate, we conjugate everything. Cosa ci manca? Cosa ci manca? Che verbo ci manca? Ok, va bene. Non importa. Cerco io quello che... Cerco quello che secondo me è più difficile. Andare, forse, è più difficile. Allora, chi è che fa la coniugazione di andare? Io. Andare. Io andare. Io vado. Bravo. Allora c'è un maschio. Bravo. Mamma mia. Allora c'è un maschio. Dicono che è la riunione delle donne. Io vado. Su vai. No, 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 no. Diamo la parola al primo maschio della situazione. Sennò donne, veramente... Molto di persone... Ok. Allora, voi, just speak at once. Qui? Broda God... Broda Amorui. Elui. Ok, Broda Amorui. Conjugueci a forse. A bego. Me sei naole, we may just... So, me isi per le sei ide. Conjugueci forse, please. Ok. Io vado. Bravo. Tu vai. Bravo. Tu vai. Ok. Noi abbiamo. Noi andiamo. Cosa? Giusto? Noi andiamo. Noi andiamo. Noi andiamo, detto? Ok. Si. Voi andate. Ok. Ma stai leggendo da qualche parte? Forse. Noi donne, non è che ci fidiamo tanto, eh? No. Loro? Alloro. Cosa? Vanno. Vanno. Sì, bravo. Allora, ci fai qualche frase con questo verbo? Io? Io? Ma scusi, io convi. Po edito alla tre di chiudele, come si dice? Ah, è vero ragazzi. È begnona. Come se vuoi, pizza? Di, di, si, woi ti dèi con l'an? 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 Ok, for instance, now. Yeah. I want to say, uh, are they go to church? Where are they go? Are they in our church? What are they in the church? Where are they? Chiesa. Cosa? Chiesa. No, vado in chiesa. Chiesa. Vado in chiesa. Chiesa. Vado in chiesa. That's a very good church. Abed, come on to my microphone. Make it be seen. I'll never go to the police talk, Abed. No, nah, you go amood there. You go amood to the people. If you want to pass up with it, you are more the person. You go amood to the people. I know that. As me tell me, that's not when I want one. You tell me that I know who's people because of my phone. If you listen to my computer, they use that for people. Okay. Yeah, that's true. Abed, no, nah, you go amood to the people. I know that someone, eh, did this make broad, only broads there inside, so I'm going to hear only broads, now you are back. If you have a computer, you will mute anybody? Eh, but I know they use computer, they use phone. Because the camera is where their computer. Okay, if Nadal will tell everybody to touch his foot, eh, if everybody... I don't say the broads, I don't say the broads, I don't say the broads. Confidence, the chiniere. Oh, nah, we have another broads now, we have two broads now. Roberto, Roberto, Confidence, and chiniere. Okay, who will be the other broads? Who will be the other broads, Abed, broads? Oboro, Pita. Oboro, Pita. Oboro, Pita, please. Vieni, vieni. Vieni, facciamo qualcosa prima di andare. Vieni, facciamo qualcosa prima di andare, e tant abem ognuno to va be. Si comme sistiamo diversi, no, possiamo anche aggiungere chiniere quremi nunchi, no? Ti fa niente chiniere quremi nunchi. Why do we have to stay these short hours? Eh, anti, son due ore. Oh, right, okay. Oh, patu nora, su pei. Oh, right, okay. Thank you. Oh, patu nora, su pei. Oh, io ho un bambino, sai i bambini, non ha una cesta vogliono la mamma. Due ore non c'è neuf, eh? Bro, ho un bambino piccolo. Una buona cosa ha detto, ha detto, ha detto, ha detto, ha detto, no, 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 no. Dopo due ore. Allora. Bro, da Pita ha scritto tutto. Ha scritto tutto? Sì, il suo nome, ha fatto spelling. No, 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 no. Io devo sentire la voce. Sì, un conto è scrivere, un conto è parlare, che secondo me è la parte più difficile parlare. Sì. Dicono che è sparito. Broda Pita ci ha abbandonato? Sì. 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 No, 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 no. Sì. 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 Allora dimmelo in inglese, dimmelo in italiano, ragionami l'italiano, due o tre giorni a settimana va bene, due o tre giorni a settimana va bene. Sì, 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 sì. Ma ci sono i video su YouTube, ragazzi? Ma allora, siccome ci sono quei video, no? Il mio piano è questo, l'idea è questo. Io faccio i video su YouTube, ok? Possono essere due o tre volte a settimana. Però il sabato non è tanto per studiare, il sabato è per conversare. Non ho capito? Ma ho avuto un video su YouTube. Ma ho avuto un video su YouTube. Però, per me, secondo me, studiare non basta assolutamente. devi comunque parlare che, secondo me, è la parte molto difficile per alcune persone, ok? È per quello che ho creato questa cosa di live. Non che... Ma sono capito di che cosa ne m'exico, perché? Di live video su rich Hawi è quello che ci sta adorzire? Non bisogna essere così... Ah canggio di Ne, non to Lizia che non ritrovi che scevano, ne, non creamy poco. Ma anche questa conversazione, è piùgevo. è più educativo e anche se hai detto brava, è così 10 minuti later 10 minuti later 0,5 minuti later non c'è anche me non c'è anche me non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è italiani si mangiare le parole si mangiare no non c'è un motore si mangiare non c'è non c'è non c'è You guys are trying. Ok. And one minute, please. Auntie Cordelia, please. Convivia. Convivia, sorry. Convivia. We need more video in YouTube. Because for YouTube, I always, you know, go to your YouTube to check if you drop a video. But it's like you drop video slow, you know, maybe only two in a week or even one in a week. To me, it's not enough. Because a lot of people always go to your pay-to-pay. My lady has other things she's doing now. She has family issues. Yeah, exactly. I just want to know. Grazie. Create more time for us. Create more time for us. No, I'm not saying live video. I'm saying to love video YouTube. Aspettate, aspettate. No, veramente, ragazzi. Io ci provo. Poi fate conto che lavoro anche Sì. Ok? Poi ho la famiglia, un bambino piccolo. Piano piano. Forse fra un po' si inizierà a fare più video, ok? Però io non prometto niente per ora. Piano piano. Piano piano. Poi vedremo come andrà, ok? Ok? So be patient with me Be conuro. The love is your strength. Thank you! Si. Ok, no problem. Like, we gi– questo vuol dire che vi vogliamo bene siccome siccome mi volete bene mi dovete dare un po' di tempo sapete poi io sono nuova su questo campo io non ho mai fatto una cosa del genere non ho mai insegnato non ho mai go too fast right allora anti-edit che non dice no perché non si dice forse perché non dice no ok 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 oi 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 ok 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 perché oi 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 no 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 continue but i'm learning i'm really enjoying myself excuse me you know that in class we have a teacher we also have a prefect prefect she's the one that will be leading us if you are tired who will lead on this yellow auntie the yellow one that know how to speak eddie 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 piano piano perché io sono nuova su questo campo like i didn't know for this thing i never had to like non ho ancora un equilibrio i never find my balance so piano piano ok abbiate così non è veloce non è veloce così non è veloce vero ok qualcuno ha qualche domanda secondo me sì che confidenza qualcosa da dire da dire sì ok confidenza che sarebbe a blessing no confidenza no no i think she means she needs confidence to speak in class i mean is that what you mean yeah please can you hear me now ok yeah ci sentiamo prova a parlare in italiano no ok what do you want really important or you want to try to use it all the accounts but if you don't leave the important you need to use it all the time me dispiace ma devi parlare in italiano no i want the thing i want the thing i want to talk is that why can't you start from let alphabets so that's where i still learn so that we learn from that that that's me it's not that i'm going to do that video you are not on our youtube channel you don't pick yourself come out by yourself oh you know there are youtube channel why if you are on our youtube channel you will not say we don't start from alphabet we don't use the alphabet yes okay i just started last week okay are you on youtube not no 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 through facebook i saw you through facebook no 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 like did you subscribe to the youtube channel okay okay no no hey hello like this hey what the information you need they face uh youtube right hey you see you see okay okay it's it's in youtube yeah we will start from there now alphabet now we start from they tell us your channel name again so that she can go subscribe hello space learning italian with convi it's the same name on facebook i think you can put it here as well you can write it on the charts okay my admin don't write it already yeah now thank you even i hear somebody they talk now my admin now they help me they control the ones when i love okay i because i can say for facebook for facebook first time we say that they hear my husband's voice bravo 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 brava è maschile sì femminile brava ok gente se nessuno ha nessuna domanda cioè se non avete le domande noi dovremmo chiudere per oggi avete qualche domanda escusa quanti voti alla settimana? cosa? fa il video o studia? allora il video su youtube a volte pubblico tre volte delle volte pubblico due volte a settimana due o tre volte a settimana poi questo live video è sempre di sabato solo il sabato ok 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 a che ora? alle quattro o alle quattro meso? alle quattro alle quattro ok alle quattro ok va bene grazie e praticamente siccome la settimana scorsa no? è successo un casino ragazzi è successo un casino ragazzi allora vi racconto inizialmente facevo tipo i video su facebook e la gente mi ha detto che preferisce zoom perché con zoom io sarei riuscita a connettere sia facebook che youtube io ho fatto l'abbonamento su zoom no? cos'è l'abbonamento? sostituzione sostituzione sì quando ho fatto l'abbonamento e volevo accedere a queste pagine sia youtube che facebook a me non funzionava non si connettevano ok? e ho dovuto usare i computer per zoom e il telefono per facebook e quelli di facebook non riuscivano a seguire quelli di zoom e quelli di zoom non riuscivano a seguire quelli di facebook e la gente si è arrabbiata e dice eh però non va bene perché quelli su zoom te la stanno godendo la lezione mentre noi qui su facebook non sentiamo niente e si sono arrabbiati e la gente mi scriveva su facebook i messaggi mi scrivevano anzi un ragazzo mi ha scritto eh i don't like this fucking app that was his word i don't like this fucking app you need to go back to facebook i was like well me l'avete suggerito voi di andare su zoom se no io non sapevo neanche l'esistenza di zoom per evitare per evitare poti via evitare poi evitare no like it's for you to make a like l'ha scritto, evitare, evitare la tua web. Per evitare il casino dell'altra volta, cosa ho fatto? Ho fatto sia live su Facebook, prima alle quattro, poi l'ho chiuso dopo un'ora e sono venuta qui su Zoom. Così nessuno avrà da lamentarsi di niente. Lamentare che vuol dire? To lament. To complain, to complain. Bravi ragazzi. Allora, per oggi dobbiamo chiudere. Io mi stavo divertendo, lo so che stiamo divertendo tutti, però... I think Oboro Peter wants to say something. I don't know. He's been raising his hand. But he left. No, he's here. I don't know. There's no one there. It's just a frame. He left, he left, he left. Ok. If you recall, I was saying, ah, perché ci hai abbandonato? Please, can I ask a question? On Saturday, is it possible you don't go on Facebook, just do the two hours on Zoom instead? I can't, because... Allora non mi hai ascoltato! No! C'è tante gente di Facebook, eh? C'è tante gente di Facebook. C'è tante persone su Facebook e tante di quelle persone non riescono a venire su Zoom, non so perché, ma non ci riescono. Sì. Andiamo facendo così, metà, metà. Metà, metà. Così nessuno avrà da lamentarsi di niente. Un'ora, sì, un'ora qua. Sì. Anzi, ho fatto un'ora di là, però voi qui non è che siamo un'ora, eh? È bello un'ora e venti minuti, quasi. Sì. Volevo dire qualcosa? Sì. Volevo dire qualcosa. Ok, dopo Blessing chiudiamo, ragazzi, ok? Ok. Sì. Sì. E quella che voglio dire è che secondo me se facciamo tre ore, due ore su Zoom o Facebook non è tanto importante così, non è così tanto… Importante, dice? Importante. Perché abbiamo video su YouTube. Su YouTube. E quelli video non solo per guardare, dobbiamo guardare e studiare. Brava! E qui ripetiamo quello che abbiamo fatto. Così quando guardi video insegna qualcosa che non sai prima, come faccio io. Quando guardo se c'è qualcosa, una parola che non so. Io mi scrivo, poi mi traduce, per vedere se è proprio giusto oppure c'è un'altra parola che si può sostituirci. E mi sento tutto insieme e continuo a guardare video. E io mi studio con la video su… Ok. Ok. Brava. Ogni volta un'ora, mezz'ora è uguale. Solo per interagire. Come si dice? Interagire. 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 Per interagire. O da interagire, no. Su studio. Interagire. Interagire. È il verbo. Ok. Ma quella che volevo dire adesso… Che cosa? Ah, sì. Quella che volevo dire adesso… In italiano come mi si dice? Interagire, sto detto. Interagire. 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 Eh, grazie. Ok. Eh… 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 Senior prefett e general prefett. Bravo. Ok. Un'ora not yet, let's. Un'ora need to the study for the video. They will come… Un'ora. Ma se non per… Even me, if I non… Google… I've even signupato. Non mi si chiamo… Non mi si chiamo… Oh, and non. No. And non mi si chiamo… I come here con Lena, ho una serie di lena su, o le se hai bosco, yes, boh, disini tolena, ok? If you would get anything when I don't understand, I would say go dicionary coluca, not my language, not my mamma language, not my papa language, ok? Piano piano, ci arriveremo tutti, ok? Prima di chiudere, dico buona festa della mamma, a tutte le mamme, sì, è domani, però non ci vediamo domani, e buona festa della mamma. A tutte le mamme e a tutte quelle donne che stanno accettando figli, che l'anno prossimo anche loro festiviranno questa festa meravigliosa. Anche a tutte le babo che stanno facendo il lavoro della mamma. Ok, va bene, allora anche a tutti i padri che stanno facendo il lavoro. Anche giusto tanto. Vi adoro ragazzi. Grazie mille. Grazie prof, ciao, 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 ciao. Ciao a tua famiglia, ciao, ciao. 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 Ciao.